Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Saluti ragazzi e benvenuti in questo tredicesimo, spero almeno, episodio della Egglock a poco ma diamante perla Qui con noi c'è... Mi conosce in te, ciao a tutti ragazzi Avevo rimosso, grazie a me di fatto Oggi andiamo minorenni Eh, in particolare io Nulla, eh, ha cellosinda vicino alla palestra? Eh, provo Ecco, di ciao Con le prime minorenni Creepy, accetterai la sfida della palestra? Eh, diventi se... Sono stato veloce, ci ho già parlato Ah, ok, perfetto Ah, ho letto venuta, ok, perfetto Meno male che non ho letto... Meno male che non ho letto il contesto perché altrimenti... Ok, tra l'altro ci saranno... Ci sarà gente scandalizzata per... No, la odio sta palestra Ma tra l'altro ti dirò... No, non lo so 28? A che cazzo di me lo ce l'ha, Marzia? Ma come 28, scusa? 28 sto allenatore, il primo Ma ha solo un Pokémon Eh sì, però è grosso Ok, allora il più forte di Marzia è il 28 È grosso Allora il più forte di Marzia è il 28 È spesso Cioè, di solito funzionava così No? Non mi ricordo E a me pare che tipo funzionava che... Nella palestra Se un allenatore aveva un unico Pokémon Era dello stesso livello Del più forte del campo palestra Ma è che si ricorda O del più debole Non mi ricordo Bidoof Bello Bidoof Perché io mi ricordo un Lucario al 31 Sai che anch'io ci stavo pensando qualche minuto fa Io mi ricordo un Lucario al 31 Sai che anch'io ci stavo pensando qualche minuto fa Sto cominciando veramente a farmi La cacca addosso Con quelle sclazie Madonna Ok, io tra l'altro non so come si faccia questo trick della palestra Quindi raga Eh, mi sa che anch'io utilizzo sta strategia molto Tra l'altro c'erano dei Pokémon che veramente mi fanno venire Minchia, grogola un vito al tiro, minchia Minchia E chi c'è sotto dentro A Salerno, Reggio Calabria Dovente dentro Groudon Che si prende un vito al tiro in testa Va beh, in teoria Groudon dovrebbe reggerlo Perché l'ho paralizzato sveleroso Ma avvelenato Ho fatto abisso Ha fallito Ok Con quale voce Ok, io devo andare a curarmi un attimo al centro pochetto Monster E io per fortuna ho abbastanza rimedi per il momento ragazzi Quindi Sì ma questa palestra è di tipo lotta E non sono randomizzati per un cazzo Mi stanno uscendo tutti tipo lotta Mi stanno sfondando Ma come? Io sono debole al tipo lotto Chi è morto? Tia? Aura Aura chi era scusami Lucario Ok Allora So che non è il momento adatto Però è appena apparso un iphone Quindi tappati le orecchie Bene a tutti Hashtag RIP Perfect run Vabbè oddio 13 episodi E ho 13 episodi E un record 13 episodi E un dannatissimo record E io non so come proseguire Però Cioè nel senso Sono arrivato a un punto morto In cui Mi do l'antidoto Nel dubbio Anche se so che resiste a un ps Però Nel dubbio Ok Quindi mi stai dicendo Che sono in vantaggio io In questo momento Eh sì Perché è una squadra Troppo debole tipi lotto Creepy story Sprechi a qualcuno Anche se In questa notte Creepy stories on the road C'è ma proprio one shot Un colpo Ma che ho stato fatto Scusami È una mossa di tipo lotto Che ho velocizzato Quindi ho proprio visto Ips di Di aura da rossi Cioè da avere Di diventare rossi Diretti Ah cazzo Aspetta ho revitalizzato Aura Perché Chancey deve avere Comando scudo Che si aumenta le difese Perché Muori Ok Grazie Oddio Attenzione Mi ho mandato in campo Merda così Out of nowhere Incredibile Tra l'altro Tia Incredibilmente Riuscirei a mettere Dei pokemon Riserve All'interno del team Non sei Eccitato Per tutto ciò Tantissimo Metto archias Vaffanculo Eh beh Chiara Bello Farai anch'io Cioè nel senso Ci sta tantissimo Allora antiscottatura Perché mi ha bruciato Archias Chi cazzo Con chi cazzo L'ha cambiato Archias Non mi ricordo più E vedi perché Invece io lo facevo Subito Coglione Vuole suicidarsi Però me lo sento Ok Perfetto Vabbè non userò Le caramelle rare Subito il condivide Ex Questi cazzo Tra l'altro siamo Salto pure Ancora più difficile Madonna Extreme Che cazzo faccio io qua Allora Così Aspetta io sto ancora Centro pokemon Così Io sto cercando di fare Il trick Però siamo già 5 a 6 minuti E sto Di sto Tre Questo episodio Durare di più Mi dispiace Se non mi fosse morto Quel cancer Quel cancer Era straforte Che cattava tutti Parco Ok Oh Guardi forse I clickbait Quelli belli Capitano solo Nel episodio Fantastico È bella Come si dice Adesso voglio L'abitudine L'abitudine Voglio una parte Dei cavi Sai che ce l'ho fatta Forza Sì ma io Con chi cazzo Batto la palestra Che non ho mosse Zì ce l'ho fatta E' beato te Io adesso Devo Inizio da Ma io Aereo colpo Ci mette in turno No Eh sì No Sì sì Però se lo resisto Lo tiro giù Tuticamente l'avversario Sì Vabbè no Niente Non facciamo un cazzato Meglio così Nel frattempo ragazzi Sto per affrontare Marziuccia La troiuccia Quindi mettiamo davanti Il roccia A me ne crepa un altro Prima nel finito Lo so Ciao Piacere di conoscerti Sono Marzi È proprio palestra Non so esattamente Cosa significhi Essere forte Come abbia fatto a diventare Come palestra Pompini E i dirigenti Proseguiamo Niente Silenzio Come si chiama Attenzione Parte la sfida di Veronica Cool trainer maschio Perfetto Marzi con la sorpresa Mi ha appena mandato in campo John Frog A livello 27 Mi sto facendo la cacca addosso Eh sì Era 31 Quello più forte Merda Cazzo Ha ritirato Ok Ha messo Magnemite Però Ok Come livelli Non siamo Cioè Come randomizzazione Mi sta andando bene Tornado Tra l'altro No ho messo le fiele punte No Ghigliottina su rocette Porco Ci sono cose che mi danno sui nervi Lui che è stato bello Ci sono cose che mi danno sui nervi Sono queste Ghigliottina Mi sono pure tagliato in faccia Cioè c'è un sangue sulla mano Siamo uno pari Ci non ci ho messo tanto a pareggiare Questa sfida No Mi da sui nervi Perché io Io non perdo per dei meriti Perdo perché Cristo Io sì Figa Avevo la squadra tutta cancera Dai ma figa Guarda che mo se me ne fa un'altra di ghigliottina Muori Individuo Porco Ghigliottir Ha messato Ha messato Ha messato No Ha messato Sì cazzo No Maniere forti Muori Muori Maniere famicchia Le maniere forti Figa se non te le faccio vedere io Ma marzia Porca tredita Ti scopo nell'orecchio Dai No Snorlax a vita 9 Ok L'ultimo posse Sceldono a livello alto Non so qual è Tanto sto coso a Selebi Ok livello 30 Il più forte Dai ma è morto Roche Non può morire Roche Scusami Mi devo cercare Cioè io adesso Entro contro Mars Io ho vinto Chi è morta Tia 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 Heridos Dio Ha usato Un parmi Colloca Ma Volst Dai Però mi gira Il cazzo Dai non è giusto Cioè Tia perde Perché fa schifo Io perdo Perché mi becco Il poco Ti fa schifo Un parmi Colloco Ti pare normale Un parmi Colloco Dai ma ti sembra normale Invece un Maglimate Con ghigliottina Oh ma non riesco A trovare Pokemon Che non mi Diano problemi Ok perfetto Io sono uscito Dalla palestra C'è Lucinda Che c'ha quella roba lì La querela Col team Galassia Chi è morto Chi è morto No Ti ha Ti ha Ti ha Ti ha Chi è morto Nessuno Però probabilmente appena adesso Adesso mi dice Mora Sto sentendo tipo Un tumore al pancreas Iniziare a crescere E noi La rega Se non lo Se non sono più veloce Io ho perso Un altro pokemon È più veloce lui Raga ripro C'è allora Diciamo C'è l'optia L'experient Devo uscire Dalla palestra No Non riesco L'icuro Qua Aspettiamo raga Aspettiamo per fare Il discorso Commovente Quando Un tia Vive Ma io No io non sopravvivo A marzi Se non ha Un domino Mi sa che non ce la faccio A parte di scattina Che non ce la faccio Meno male Z meno male Che non siamo In facecam Perché c'è una riga Di sangue Che mi scende Io c'ho la riga Di madonna In faccia Invece Ah no Ritiene gli strumenti Pokémon schiuso Quindi io Ho delle master Bello Non è comunque Niente facciamo marcia Vediamo la randomizzazione Di marcia Dai Dai Ti rami giù Gesù Come primo Che era Che una stritta Leggenda Io nel frattempo Mi scelgo Siamo assidi Tipolotta Tiro Aereo colpo E Comunque non Non serve un turno Però non colpo Appena scoperto Ah No E quello Era attacco Ora che mi ci fai pensare Io non ce la faccio Batterla Non ce la faccio Non riesco a buttare Non ho mosse super efficaci Non ho mosse Di fanno Non ho mosse Super efficace Mi ero troppo Abituato bene A non modifichare I death count In sidebar Oh zio Non lo so Perché Cioè Dovessi scegliere Adesso Metterei Darkrai Però c'è anche Merda Che sarebbe Una figata Da avere In squadra Ok raga Comunque Per i prossimi Cleff Cleff C'è qualcosa Di forte Beh questa Dove censurare Cosa Di Vabbè 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 Cleff Con l'acerboso Basta L'acerboso Tua madre Con l'abbo Frago Eh beh Se non è l'acerboso E frago il tempo Cosa ha detto Giulio Sto coso Stai Stai perdendo male Ok io zì Mi metto in squadra Non lo so Io sono indeciso Tra Darkrai E merda Appena orgasmato Ma sapete che c'è Io mi metto in squadra Merda Io mi metto in squadra Merda Di cazzi Tanto un altro poco Muore per mettere in squadra Darkrai Poi Darkrai OP Per il momento Non so quanto mi serve Un'azzulegno Ma che mostro Sto cazzo Di cosa Rosen fa Dai ce la vuoi fare Tia Io credo in te Credo nel cuore Di trader Tia Hashtag forza Tia Nei commenti Raga vi prego Ma quanti noi ci siamo 13 13 Basta Cleffa con Frago il tempo Allora Io Ragazzi inizio Da affrontare il team plasma L'ho battuto Questo Cleffa infare Finchia Certo che sei avuto Difficoltà Certo che sei avuto Difficoltà con Cleff Azzia Sono sei livelli sotto Ed è Gesù Quel Cleffa Era Stilix Oh le devo affrontare davvero Come la remoto Dai Ce la fai Stilix livello 30 Mi sfondo Non era su sto poco Un co terremoto No eh Non ce l'hai fatta Tra l'altro Per questo episodio Non abbiamo uova Noto No mi muore doppio Mi muore Inventa niente No non mi è morto No ok perfetto Meglio così Meglio così Per il prossimo Tia Che livello Li portiamo Ma io Perché Perché Aspetta Ricordami in base A che cosa avevo dentro L'ho tirato fuori Che è super efficace No Ha fatto esplosione Sto coso No No Se mi butta C'è Lugia No 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 Tia 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 È morto Lugia Brutto colpa Allora Io però Muoio per ghigliottina E per esplosione Muoio per ghigliottina E per esplosione Li ha uccisi tutti Sto coso Ha esploso Ha ucciso tutti Ho vinto io Dai Allora capisci Però anche tu Che questa cosa qua È un'ingiustizia Perché Non è giusto Che io debba pareggiare Con una persona Del genere Così Dai Dite nei commenti Se non c'è ragione Adesso vi voglio vedere Che cazzo Che hai ragione Io mi sono beccato Un barmi con loco Ma ho volto Io mi sono Oh Un magnemite Con ghigliottina Con l'antenne Dio caro Sì Però io penso Due dei miei Pokémon più forti E io ho perso Lugia Per il prossimo episodio Ragazzi ci alleneremo Comunque era scontato Che li andassimo a perdere In sto episodio Effettivamente Ma tu sei andato A farle reclute del team Eh sì Per forza Ah quindi Don't me la fallo anch'io Eh fai veloce ma Tanto oggi Di uovo non ne abbiamo Da schiudere Quindi Grazie Lusinda Grazie anche a te Utile Utile Come so chi prendere Come secondo Pokémon Eh io a sto punto Prendo sia Darkrai Che merda Eh sì Però dai mi gira il cazzo Perché non li sto perdendo Per demeriti i miei Ma per Cioè sì Dovei predictare La ghigliottina E non so Sì certo E magari C'avevo anche il cazzo Elicottero Per sconfiggerlo Allora che mi prendo Squadron Sto piangendo Sono tentatissimo Di prendermi Però spero Mi serve qualcosa Contro un tipo Lotta E non cazzo Dai ma Lugia No figa di Ramarro Lugia no Ah dai mi prendo Teflosion Ma tra tutti Non Lugia Almeno Non Lugia Mi prendo Teflosion E via Tra l'altro Sono morti I miei primi Due Pokémon Forza No Lugia Lugia E anche il mio E la spinta Che tristezza Buon roccio Il piccolo roccio Ti ricorderemo sempre Come uno di noi Ciao Luke Spiace Sei morto Il piccolo Luke Che sto andando Se ci vuole fare Il più veloce possibile Io sono pronto Per concludere Se vuoi E spesso Batti Batti Tra tempo Mi tampono Mi tampono Partito adesso Quanti po' Un anno 284 Vivara Allora Posso buttargli giù Gastli Però sono super efficace Tutto giusto Quel calumper Fa qualcosa di ambivo In furia seme Tra l'altro Cioè non sono Sono andato giù Con un'esplosione Ma pure Ma pure Crittato Corpo di fuoco E va bene Ma sono sfigato Però Ok Penso di vercela Fatta Vai inizia pure A fare l'altro Ragazzi Io Allora A parte che lo sapevamo Che saremmo andati A perdere E' morto Doppio A parte che lo sapevamo Lo sapevamo Che saremmo andati Sono ancora in vantaggio Allora ragazzi Allora Tanto voi non lo vedete Ma io sono a fare l'altro Che sto guardando Tipo l'armadio Ehm Nulla Abbiamo perso 5 Pokémon In un episodio E ne abbiamo perso Il 0 in 13 Va bene Per carità Però insomma Diciamo che le mie perdite Sono state Almeno agli occhi Viste dal mio punto di vista Non so dal vostro Sono state Molto più Ingiuste E E Risalenti Diciamo A una Una matrice sfigata Rispetto a quelle di Tia Che sono errori di valutazione Ehm Sì sì Certo Armi con l'Ocomo Vost Complessi Di Pokémon Decisamente deboli Diciamo che Sicuramente In questo momento Io merito di essere in vantaggio Nonostante io abbia perso Comunque Il mio starter E sicuramente Quello che rappresentava All'interno del team Il Pokémon migliore Detto ciò Se Tia ha finito di combattere Vi saluto Per il prossimo episodio Ci troverete tutti allenati Anche con i nuovi Pokémon Ossia Per me Light e Mer Tra l'altro Merda è uno strumento Mi porta 60 Merda è uno strumento Mi porta 60 Mi porta 60 Mi porta 60 Aveva alcuni video esperienze E nulla ragazzi Quindi se il video vi è piaciuto Vi invitiamo a lasciare un bel mi piace Un commento Un'iscrizione A entrambi i canali Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate dai social Per rimanere sempre aggiornati Per vedere foto hard Di Serena Di Luke Ehm Che altro Premete la campanella Per ricevere sempre i feed E noi ci becchiamo ragazzi In un prossimo video Ciao ragazzi 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 Grazie a tutti.